Vorrei che vada al Napoli? Tornerà ma dove gli pare? A me ora chiedi. Che ne so io? Va bene. Dovrebbe vendere. Deve decidere lei dove va, non lui. No, no, anche questa è una regola che dovremmo poi mettere a posto. Io ho cercato di fare tante battaglie in Lega. Questa è una regola che il calciatore, se è tesserato con me, deve fare quello che dice il club oppure un trasferimento di pari livello. Invece a volte voi confondete che il calciatore può andare via e noi non facciamo niente per trattenerlo. Ma se uno se ne può andare, se vostra moglie fa in bolla perché trova uno alto all'occhio azzurro, che fate? La tenete a casa che le molle? No, arrivederci.